Vittorio Sgarbi, Vice Ministro della Cultura, opinionista e personaggio televisivo, ha fatto visita a Sulmone Casteldisangro nel corso della stessa giornata, il 14 ottobre 2023. La sua visita a Sulmona è stata inizialmente finalizzata alla registrazione del suo intervento per il premio Sulmona di arte contemporanea, la cui premiazione si sarebbe tenuta in remoto il 14 ottobre. Tuttavia, Sgarbi ha deciso di estendere la sua permanenza in Abruzzo e di visitare anche Casteldisangro, città che ha sempre amato e di cui è grande stimatore. La visita di Vittorio Sgarbi a Casteldisangro è stata una sorpresa per tutti, compreso il sindaco Angelo Caruso ed il direttore del Museo Civico a Fidenate, Mario Reinaldi, che, buttando letteralmente dal letto tutti i custodi dei punti culturali di Casteldisangro, hanno permesso alla Vice Ministro Vittorio Sgarbi di ammirare le opere d'arte conservate nel museo, nella Pienarcoteca e nella Basilica di Santa Maria Assunta. Il critico d'arte è arrivato in città nel cuore della notte, alle ore 23, per cenare al ristorante Materia Prima, dello chef Gianmarco Dell'Armi. Dopo cena, Sgarbi ha iniziato il suo tour, elogiando le bellezze di Casteldisangro, definendola una città da sogno, grazie alla presenza dei quadri del pittore Teofilo Patini. Il Vice Ministro della Cultura è rimasto particolarmente colpito dalla collezione dei reperti archeologici che testimoniano la ricca storia della città, all'epoca italica e quella romana. Il Museo Civico Fidenate è una vera e propria gemma nascosta, ha dichiarato Vittorio Sgarbi. La collezione è di grande valore storico ed artistico e merita di essere conosciuta ad un pubblico più ampio. Il critico d'arte si è soffermato in particolare sulle foto delle formelle del Nicola di Guardia Grele, attualmente conservate nella galleria del Museo dell'Opera di Firenze. I bassorilievi dello scultore erano di proprietà di Teofilo Patini, sono stati realizzati in pietra della magliella e raffigurano le scene della vita di Gesù Cristo e della Madonna. Nel 2015 Vittorio Sgarbi ha scelto la tela Via Paradiso di Teofilo Patini per rappresentare l'Abruzzo all'Expo di Milano. In quell'occasione il critico d'arte ha elogiato l'opera come un capolavoro ed un manifesto della pittura italiana dell'Ottocento. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per la disponibilità e la professionalità dimostrata nella visita del Vice Ministro Vittorio Sgarbi ai nostri centri culturali, dichiara il Sindaco Angelo Caruso. La vostra disponibilità anche durante orari notturni è stata fondamentale per consentire al Vice Ministro di ammirare le nostre opere d'arte in tutta tranquillità. Patini è uno dei più grandi pittori italiani di tutti i tempi, ha dichiarato Sgarbi. La sua opera è patrimonio inestimabile per l'Abruzzo e per l'Italia.